Ha fatto tremare l'intero centro Italia il sisma dello scorso 24 agosto, il terremoto che ha colpito aspramenti i territori del Reatino. Un evento che obbliga ad interrogarsi anche sul grado di resistenza antisismica dell'edilizia nell'Aretino e soprattutto a parlare nuovamente di prevenzione come danni sostiene Giovanni Cardinali, ex ingegnere capo della provincia di Arezzo ed oggi consulente di Confindustria Toscana Sud-Est. A livello di prevenzione sismica che è l'aglumento più importante da affrontare perché si può convivere con tutti gli eventi naturali, ivi compreso il terremoto, la situazione è abbastanza problematica e variegata, un po' a macchia di leopardo. Sicuramente in Valtiberina, in particolare a Sansepolcro e a Monterchi abbiamo delle ottime costruzioni sismo resistenti. Un pochino meno dall'altra parte, in particolare il Casentino. Ad Arezzo abbiamo una zona sismica di media, bassa sismicità. Sicuramente tutte le abitazioni costruite prima dell'inserimento del comune di Arezzo in zona sismica dovrebbero essere sottoposte a un'analisi di sismo resistenza. Ma non è detto che anche quelle dopo non ne abbiamo bisogno. Per le scuole è stato fatto un grande lavoro. Quando io lavoravo in provincia c'era proprio un programma di carattere decennale che penso sia andato in esaurimento. Alcune scuole elementari e medie sono state messe a norma, altre attendono tuttora di essere messe a norma. Questa è la situazione. Gli ospedali hanno avuto un programma da parte della regione toscana che è in corso di realizzazione. I privati sono quelli che sono nella situazione più difficile. Ed è proprio sempre in tema di prevenzione che Carinali, in qualità di consulente ANCE e Confindustria insieme ad altri esperti, ha preparato un documento da proporre all'amministrazione nell'ambito della revisione del regolamento urbanistico. Sto preparando un documento affinché si possa aggiornare la microzonazione sismica per i vari quartieri della nostra città, così da valutare dove c'è da intervenire in modo più netto e deciso per la prevenzione sismica. Andando anche nel merito alla situazione dei vari fabbricati, l'età dei vari fabbricati, l'età di costruzione, il terreno nel quale poggiano e così via. Grazie.